Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Impluneta e Barberino, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud, segnaliamo inoltre che l'area di servizio di Badia Alpino Est, sempre in direzione Bologna, è sprovvista di benzina. Sulla A12 ancora per traffico intenso, code a tratti tra Massa e Versilia in entrambe le direzioni, tra Pisa Centro e il Bivio per la A15 in direzione Genova. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze Impluneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!